Chiara Iezzi, componente del duo pop Paola e Chiara, fondato con la sorella, Paola Iezzi è una cantautrice, musicista e attrice italiana. Ripercorriamo la sua carriera, dagli esordi nel duo femminile pop a Sanremo, al rapporto con gli 883 e Max Pezzali, le ragioni della separazione, fino alla carriera come solista e attrice televisiva e cinematografica. Chiara Iezzi è nata a Milano il 27 febbraio 1973 e ha, attualmente, 51 anni. Alta 1.60m, è la primogenita della famiglia, figlia di un assicuratore e una casalinga. Da sempre appassionata di musica e recitazione, si è diplomata come fashion designer mentre nel tempo libero frequentava una scuola di recitazione, la sua carriera esploderà, però, con il duo fondato insieme alla sorella Paola. Paola Iezzi inizia a cantare in un quartetto jazz, poi nel gruppo funk e le funchi, finché nel 1994 arriva la prima grande occasione, viene ingaggiata, insieme alla sorella Paola, per affiancare Max Pezzali nella nuova formazione degli 883 come corista, dopo che Mauro Repetto aveva lasciato il gruppo. Chiara nel 1996 fonda con la sorella il duo pop Paola e Chiara. Dopo l'esordio a Sanremo Giovani con il brano In Viaggio, l'anno successivo si esibiscono al Festival di Sanremo con la canzone Amici come prima, vincendo la categoria Nuove Proposte. Il successo è da qui immediato, incidono otto album, di cui quattro destinati anche al mercato internazionale, e vendono oltre 5 milioni di dischi sia in Italia che all'estero. In questi anni partecipano insieme a quattro edizioni del Festival di Sanremo e a cinque del Festival Bar. Il brano di maggior successo delle sorelle è Vamos a Bailar, Esta Vida Nueva, dall'album Television, con il quale vincono il Festival Bar e ottengono un grande successo internazionale, con tre dischi di platino in Italia. Chiara, parallelamente all'attività discografica in duo, ha sempre avuto anche un'attività autonoma. Pubblicava già nel 2007 il suo primo episodio da solista intitolato Nothing at All, e, nonostante avesse annunciato la cessata attività musicale nel 2014 per dedicarsi alla recitazione, nel 2015 si presenta come concorrente a The Voice of Italy. La giuria del talent la selezione ed entra a far parte della squadra di Jax. L'esperienza è stata accompagnata dalla pubblicazione di un nuovo episodio. Nel 2022, suscita clamore mediatico una esibizione dal vivo durante un DJ set della sorella Paola, insieme alla quale riprenderà l'attività in coppia partecipando al Festival di Sanremo 2023 e incidendo un nuovo album discografico. Dopo la partecipazione nel 2013 delle Sorelle alla sesta edizione del Varietà di Rai Uno i Migliori Anni, condotto da Carlo Conti, esce l'ultimo album come duo prima della rottura, Giungla. Infatti, contemporaneamente all'uscita, Chiara annuncia che questo potrebbe essere l'ultimo progetto del duo. Poi l'8 luglio la coppia si scioglie ufficialmente, ma le ragioni della separazione rimangono, a lungo, misteriose. Una delle ragioni sembra essere stata la partecipazione di Paola nel programma Nord-Sud-Ovest-Est, Tormentoni on the Road con Max Pezzali, un progetto da cui la sorella era invece rimasta esclusa. Chiara averissimo, dieci anni fa, aveva raccontato, l'ho scoperto all'improvviso e ci sono rimasta proprio male. Sarebbe stato carino condurre insieme a lei e a Max. Probabilmente però aveva voglia di fare qualcosa da sola e adesso ho capito. Ora, tutta la verità sul loro allontanamento è stata svelata nel loro nuovo libro Sisters. Recentemente, Chiara Diva e Donna aveva spiegato come la separazione avesse però creato la possibilità di ricostruire un legame più forte che mai. La pausa nella musica è tra noi ha lasciato un segno. Oggi ci siamo veramente ritrovate e credo di poter dire che ci butteremmo nel fuoco l'una per l'altra. Paola e Chiara avevano appena il loro sesto album in studio Win The Game, nel 2007, quando scoprirono che stavano frequentando lo stesso uomo, di cui non si è mai saputa l'identità. Scoprirlo è stato uno shock ma dopo qualche incomprensione ci siamo spiegate, raccontavano Paola e Chiara in un'intervista al messaggero. Quella cosa lì adesso sarebbe impossibile da vivere, siamo grandi, siamo altre persone. Secondo me chi fa arte attinge dalle proprie esperienze, anche le più intime e nascoste, e da quello che vede o intuisce negli altri. Il successo come cantante non ha impedito però a Chiara Jezzi di continuare a coltivare la passione per la recitazione. Dopo aver rinunciato a un'importante occasione all'età di 22 anni, quando era stata notata da un regista a Roma, dal 2010 ha ripreso gli studi come attrice. Tra il 2023 e il 2024 ha partecipato a due episodi della serie TV di Successo Mare Fuori, che le ha fatto ottenere il premio Filming Italy Creativity Award alla mostra del cinema di Venezia. Nel 2008 Chiara Jezzi aveva iniziato una conversione all'ebraismo a Gerusalemme. Nel 2014 si è sposata in segreto a Cipro con Mer Cohen, un ex rabbino di una comunità ebraica, divorziando pochi anni dopo. Comunque, dai social non emergono indizi sull'attuale compagno della cantante e attrice. E voi cosa ne pensate? Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.